buongiorno oggi vi volevo parlare del mio ultimo libro pubblicato con tra le righe questa casa di cui mi onoro di fare parte essere nella scuderia di andrea giannasi è una bella avventura il libro è l'ultimo è una raccolta di poesie e si intitola percezione imperfetta dei pericoli si tratta di due silleggi tre sillogi poetiche la prima a che fare con i problemi che poi ritornano nel titolo e si intitola nel soffio materno della terra è una sillogia poetica in cui mi sono divertita a recuperare il sonetto il madrigale la canzone i versi gli endecassillabi i settenari cercando di restare in quel ritmo che in fondo abbiamo imparato a scuola che ce l'abbiamo un po dentro poi ovviamente ci sono anche poesie in versi liberi la libertà è sempre qualcosa di molto che che aiuta molto la creatività vi leggo una di queste poesie che si intitola madrigale per la distruzione c'era tregua finito il raccolto quando completati erano i poderi da svuotare e ciascun impegno svolto non c'è tempo di chiudere i cantieri siamo senza freni anche se il burrone ci vuole funamboli giocolieri si deve fare andare oggi al lagone offrirsi ambiziosi alla distruzione l'uccellino che è in copertina rende bene il senso di inermità che stiamo vivendo sia per i problemi ecologici i problemi che le ferite che abbiamo infarto alla terra sia per i problemi sanitari dovuti a questa pestilenza del covid 19 che in questo momento stiamo vivendo un cellino bagnato sulle mura dei castelli di canossa dei castelli della grande contessa rende bene l'inermità che dovremmo di cui dovremmo prendere coscienza che è la nostra inermità di esseri umani l'inermità del bambino in culla l'inermità dell'uomo in croce come siamo in questo momento un po' tutti noi soprattutto i più poveri chi non riesce ad avere accesso alle cure la foto ovviamente appunto riguarda i castelli di canossa ed è di Emanuela Rabotti bravissima volontaria che opera ai castelli l'altra silloge riguarda appunto i castelli i castelli di canossa e di rossena e riguarda il paesaggio che è intorno riguarda le piante, gli animali, l'uomo, i borghi quel paesaggio che tutti noi montanari emiliani di Reggio Emilia abbiamo un po' dentro quel paesaggio che Matilde ha contribuito a costruire e si riguarda appunto anche le piante e ve ne leggo una che ha a che fare con il cactus perché a rossena c'è un clima particolare un clima dove vivono sia i fichi d'India che i cactus nonostante l'inverno del clima continentale emiliano probabilmente un microclima che si è creato in quella zona collinare il cactus non afferrarmi, non provarci, non voglio ferirti è così per natura, mi difendo e ti farò male abito i precipizi non ho timore di urti e grandine il mio fiore dura solo un giorno però sogno non so la tenerezza non conosco la morbidezza delle mani so e basta l'umido delle chiocciole che rosicchiano le mie spine non conosco la terra grassa del frumento vivo di poca sabbia tra le rocce però sogno la pelle liscia delle mani l'ultima parte riguarda alcune poesie che ho scritto sotto la guida di Giulio Mozzi e Alessandra Celano negli anni scorsi durante dei giochi poetici online sono odi e lodi una scherzosa riguardava un gioco poetico che si intitolava lodi del corpo maschile e faceva un po' il verso alle lodi medievali del corpo femminile lodi erotiche anche fortemente erotiche a volte quindi questa si intitola le cosce e riguarda una parte del corpo maschile io sono molto felice di questo libro anche per come è fisicamente per come si presenta per come è stato costruito e ringrazio l'editore e auguro alla casa editrice tra le righe libri di continuare in quest'opera di diffusione della cultura grazie, ciao